poco spazio al trono over nella puntata del 16 gennaio 2023 mentre alcuni telespettatori accusano la corteggiatrice di federico il momento di federico nicotera nelle puntate di uomini e donne è molto atteso dal pubblico di canale 5 dopo tanto tempo un trono riesce a tenere incollati al piccolo schermo tanti telespettatori ad attirare l'attenzione è in particolare carola carpanelli sostenuta da moltissimi fan il momento dedicato al tronista però inizia con alice barisciani quest'ultima è ancora arrabbiata per come si è conclusa la passata registrazione in cui ha notato ancora una volta il forte interesse che federico prova nei confronti di carola nicotera ha fatto un'unica esterna con la carpanelli l'uscita però non è andata benissimo infatti tra i due si è accesa una nuova discussione l'ennesima proprio per questo federico nicotera si è detto stanco della situazione che sta vivendo maria non lo so è particolare io ancora faccio fatica a capirla io sono andato lì per chiarire poi però dico c'è un momento del percorso che voglio stare bene io invece sto sempre con una che se ne va e una che dice mi sono stufata entra nello studio di ue di carola che parte subito in quarta tu litighi con una persona e pensi di fare una bella esterna e da quattro mesi che dici questa cosa se c'è bisogno di litigare litighiamo allora non litighiamo mi faccio scivolare tutto addosso facciamo così non litighiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.